Buongiorno a tutti, non so se vi è mai capitato di voler andare ad un concerto, magari del vostro artista preferito, ma di non avere nessuno dei vostri amici con cui poterlo fare. Siamo trovati nelle condizioni in cui nessuno all'interno della vostra cerca di amicizie, amici più stretti, amici su Facebook, contatti in agenda, era disponibile in quella data specifica, vuoi per motivi di lavoro, vuoi per motivi economici o per gusti musicali semplicemente differenti, ad accompagnarvi e quindi a condividere con voi le emozioni del momento di un evento di musica dal vivo. Oppure, non so se vi è mai capitato di aver acquistato un biglietto per un concerto o per un festival organizzato fuori dalla vostra città, ma non saprei dove dormire e quindi trovarvi di fronte al classico dubbio se prenotare su Booking, su Airbnb, su un bed and breakfast e quindi sacrificare una porzione del proprio stipendio sull'altare dell'esperienza concerto, oppure mettersi in viaggio di notte dopo il concerto, dopo il festival. Oppure ancora, vi è mai capitato di aver partecipato ad un concerto la sera stessa o il giorno dopo voler condividere le immagini, le emozioni di quel concerto con chi avesse le vostre stesse affinità musicali. Vi è mai capitato di voler parlare di musica in un luogo digitale dove si parli soltanto esclusivamente di musica, magari della vostra musica preferita? A me è capitato, a tutti i ragazzi del team Sounder è capitato e abbiamo cercato di risolvere la criticità con i social e gli strumenti a disposizione. L'esperienza non è stata affatto pagante, per questo abbiamo costruito Sounder, un social network esclusivamente dedicato alla musica che permette agli appassionati di musica di trovare persone con le stesse affinità musicali con cui poter condividere le emozioni di un concerto o di un festival. Oltre ad essere un social network, Sounder è stato disegnato per essere una piattaforma di incontri musicali, nel senso che permette alle persone che si profilano di trovare persone con i propri interessi, con le proprie affinità e di trovarsi offline in occasione di concerti o musica dal vivo. È un Tinder musicale? Qualcosa sicuramente, qualcosa di più, visto che su Tinder ci andiamo per trovare persone con cui condividere sentimentalmente o sessualmente un'esperienza Sounder per costruire amicizie che abbiano come la musica la leva principale. Sounder è anche un network di musica oci surfing, nel senso che su Sounder possiamo trovare persone con i nostri stessi interessi che ci permettono di essere ospitati a casa loro per la notte del concerto. Sounder si colloca nel punto di intersezione di quattro mercati, qualche numero, è interessante perché in Italia nel 2016 ci sono 13 milioni di ingressi unici per un fatturato di 415 milioni di euro, nel 2017 c'è stato un incremento del 7%, quindi arriviamo a 445 milioni di euro soltanto al botteghino. E anche il dating è interessante, noi milioni di persone sono iscritte in piattaforme di incontri online. Sounder possiamo costruire il nostro profilo, possiamo scegliere i nostri music circle, le nostre famiglie musicali e le nostre community, un po' come succede per Reddit, possiamo scegliere quali sono le nostre famiglie che poi saranno quelle che nel momento delle interazioni andremo a interagire perché ogni contenuto che metteremo nel nostro diario musicale verrà condiviso con le nostre famiglie musicali. Possiamo scegliere se mandarli in direct con i nostri amici o nelle singole music circle switchando con un parametro di switch. E ovviamente su Sounder le call to action fondamentali, cioè per ogni evento trovare amici per il concerto e trovare alloggio per il concerto. Come si fa soldi su Sounder? Da sinistra a destra implementazioni progressive. Primo anno con l'advertisement, costruiamo la community e vendiamo spazi pubblicitari. Dopo il primo anno contenuti sponsorizzati per chi produce eventi di musica dal vivo. Ovviamente tutti possono segnalare un evento, anche gli utenti privati, un evento al giorno, però per chi lavora in questo settore per l'industria musicale possono avere dei canoni con cui promuovere nel social feed di ogni utente i loro eventi a pagamento, fee sui ticket online, Sounder premium per la versione senza pubblicità e la certificazione profilo per chi mette il proprio postoletto nel network di music couch surfing. Questo è il nostro team, oltre a io ho un'esperienza di 7 anni nell'industria della musica dal vivo. Abbiamo un UX manager, UI manager, un front-end developer junior, grafica e comunicazione. Abbiamo fatto diverse cose, abbiamo investito molte nostre risorse umane ed economiche, analisi di mercato, sviluppo del wireframe workflow per chi volesse possiamo far vedere qui il nostro video prototipo, test di mercato in Italia e realizzazione del video spot ufficiale. Per ogni informazione sono a disposizione. Grazie.